Ciao a tutti amici Io scrivo frasi d'amore frasi d'amore frasi d'amore frasi d'amore Fasi d'amore che sembrano ridicole, mi rendo conto, ma il sentimento che provo è tanto forte, lo devo esprimere, ma non essendo un letto in poi a collettorato, mi viene fuori quello. Fasi d'amore. Fasi d'amore.